Ok, per questo esercizio vi servirà un elastico, cercate di fissarlo in modo tale che sia almeno all'altezza della vostra spalla. Da qui fate un passo indietro e tenete il gomito flesso a 90 gradi e andate a estendere il gomito mantenendo il palmo della mano sempre rivolto verso il basso.